Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di 10 cose che non sai su Vin Diesel. Il suo vero nome è Mark Vincent Sinclair III. Il nome Vin Diesel è stato scelto mentre lavorava come buttafuori al tunnel, un nightclub di New York. Vin è un'abbreviazione del suo nome, Vincent mentre Diesel è il soprannome dato dai suoi amici per la sua inarrestabile energia. Il colore degli occhi è marrone, anche se guardando Pitch Black e The Chronicles of Reddick sembrano azzurri, le lenti erano colorate. Capelli rasato originariamente scuri e ricci. La sua altezza 180-185 cm. Peso circa 90 kg, varia a seconda di film. Il padre biologico, afroamericano, è sconosciuto, la madre si chiama Delora ed è di origini siciliane ed è un astrologa con un master in psicologia. Il patrigno, Irving Vincent, è un regista teatrale e insegnante di teatro, ha inoltre due fratelli e una sorella. Diesel si è sempre descritto come una persona di colori di diverse etnie. Macchina preferita? I SUV. Ama le t-shirt, sembra che possegga più di 2000 magliette. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo con i vostri amici, vi ricordo di seguirmi sui social che trovate giù in descrizione ed iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornato sui contenuti che porterò. Noi ci rivediamo sempre qui per un prossimo contenuto, un bacione e un abbraccio. Bella a tutti!